In questi anni il festival si è varso molto dell'aiuto dei bibliotecari, del sistema bibliotecario provinciale. Paola, per chi la conosceva, sa benissimo che era una persona di un entusiasmo trascinante e quindi ci mancherà molto, ma ci ha dato anche un esempio che ci dovrà servire per tenere questa tensione sempre viva. Quindi la ricordiamo con molto affetto e siamo molto vicini a tutta la sua famiglia. Grazie. Grazie a tutti.